Ci aiuterà a discutere e approfondire la notizia, si tratta di Enea Nepentini di Cyber Alliance Italia collegato in diretta con noi dai nostri studi milanesi di Santa Giulia, buonasera, grazie di essere qui Allora, come detto il principale indiziato sembra essere proprio la Corea del Nord di questo cyberattacco, il peggiore forse di tutti i tempi Sì certo, ma adesso per quello che riguarda la provenienza è sempre molto difficile Ricordo un fatto avvenuto all'inizio di quest'anno che riguardava un attacco che era concentrato in quel caso solo sulla Russia e che colpì delle infrastrutture strategiche e anche l'apparato finanziario della Russia Si risalì al fatto che i server stavano in Olanda e la società che era proprietaria del registro della registrazione di questi server e della proprietà era Ucraina, ma poi risultò che c'erano delle falsità nelle varie registrazioni Per cui questa impresa Ucraina non ne poteva nulla Quindi bisogna fare molta attenzione a poter analizzare questo fatto della provenienza Certo, i media di tutto il mondo in queste ore stanno rimbalzando questa notizia Molto probabilmente potrebbe avere un fondamento di verità Però quello che noi oggi possiamo dire su questo fatto è che ci troviamo di fronte a un evento eccezionale perché ha colpito a livello internazionale come mai nella storia Però non è proprio un caso, come dire, straordinario per gli addetti al settore Perché di queste vicende ce ne sono quotidianamente Tant'è che prendendo soltanto i dati della Lombardia Si è quantificato il cyber lab della Bicocca Ha quantificato questo problema che riguarda solo quest'area Che naturalmente è l'area motore d'Italia Per cui certamente la densità di organizzazioni economiche è particolarmente forte Ma stiamo parlando di qualcosa come 700 milioni di euro all'anno Il danno creato Ecco, questo è un dato veramente importante Che fa capire anche che essendo stato, questo dato tra l'altro, calcolato prima di questo evento Ebbè, il problema c'è, è costante Fortunatamente io posso dire che in questo settore Per quello che ho potuto capire abbiamo una piramide Ecco, si può essere visualizzata una piramide Nella parte alta abbiamo i nostri servizi La sicurezza nazionale Tutto quello che riguarda la parte fortemente istituzionale E in quella parte siamo molto, come dire, messi in modo performante in Italia Abbiamo una qualità elevata C'è un programma che era stato avviato dal Ministro Migniti Con l'assunzione ultimamente di 100 ragazzi Che lavorano dentro a questa parte di sicurezza Certo, i nostri budget non sono paragonabili a quelli degli Stati Uniti E neppure di altri paesi evoluti Come siamo noi sotto un aspetto di carattere industriale Ecco, per cui c'è questo fatto Lì siamo messi bene La parte regolamentata, che è la seconda parte della piramide Messa bene perché abbiamo delle società incredibili Che fanno le protezioni delle nostre telco Delle società di telecomunicazione Ma anche di strutture come la vostra, come Sky Abbiamo ad esempio una società, qui proprio a Milano Che si chiama Emeize, che è straordinaria E lì siamo messi benino Con però delle macchie di leopardo Perché, ad esempio, nel settore della sanità Abbiamo ancora degli apparati che non sono protetti Che non hanno fatto prevenzione Che non sono neppure, come dire Dentro dei programmi immediati di protezione Però il vero problema che io devo sottolineare A fronte di questo lancio, di questo tema di Vanna Crai A livello mondiale E che noi abbiamo una terza fascia Che è costituita dalla nostra ossatura industriale Cioè delle imprese con meno di 15 dipendenti Che poi effettivamente sono la nostra economia E lì noi abbiamo i problemi Quindi se vogliamo mettere mano Prendendo spunto da quello che è successo Lì dobbiamo intervenire Perché lì abbiamo delle imprese Che sono veramente all'anno zero Senza protezione, senza neppure una cultura Per quello che riguarda il fatto di aprire delle mail Che arrivano, che sembrano delle mail Che ti arrivano da fornitori Tu le tocchi e da quel momento parte un virus Vanna Crai, ma tanti altri Che ti criptano i dati E tu per poter ritornare in possesso dei tuoi dati Della tua contabilità Ma di tutto quello che hai Pensiamo a uno studio legale Devi pagare Devi pagare in bitcoin Come è successo in questo caso Con WannaCry Senta Nepentini Le propongo di ascoltare insieme davvero 30 secondi Di ciò che ha detto Marcus Hatchkins Che è l'esperto di informatica Della CryptosLogic a Los Angeles Conosciuto come MalwareTech Il giovane inglese di 22 anni Che ha bloccato WannaCry Senta con me E poi le faccio un'ultima domanda D'accordo We think there might be more domains out there That will sort of come around the next few weeks But this one I think is pretty much done and dusted You've got to keep your systems up to date Because obviously something like this happened Because of a lack of a patch So just keep your systems up to date And keep sort of monitoring what's going on Maybe give your IT team a raise Because obviously they're the ones Who are going to end up stopping this So I've had people sort of inundating me Messages thanking me Saying that I'm a hero I mean I sort of just registered this domain for tracking And I didn't intend for it to like sort of blow up And me to be all over the media I was just sort of doing my job And I don't really think that I'm a hero at all Allora da tecnico le chiedo di commentare Quello che ha detto il giovane Che abbiamo sentito in conclusione Guardi, beh intanto come dire È stato tutto bravo È stato molto bravo E devo dire che tutto quello che lui ha commentato Denota anche un comportamento Devo dire da ragazzo modello Detto questo però farei ancora un po' attenzione A trarre delle conclusioni su questo virus Certo, c'è da dire che ogni virus che viene progettato Ha sempre una porta Che potrebbe servire anche a chi lo ha ideato Per poter essere disinnescato Ecco, molto probabilmente C'è stata anche forse un po' di casualità Ma si è riuscita a entrare esattamente In questa porta aperta E avere questo effetto di disinnesco Detto questo però vorrei sfruttare Questo breve momento Per dire che suggerisce Questo intervento di questo ragazzo Anche il fatto degli aggiornamenti dei sistemi Ecco, questa è un'altra questione Per la quale bisogna ricordarsi Che se io ho un hardware, un software Cioè un pc E i programmi che sono di dieci anni fa Posso comunque tenere quei sistemi Ma molto probabilmente Devo fare attenzione Almeno ad aggiornare i software Perché se io aggiorno Come a volte viene richiesto Dagli stessi produttori dei programmi software I miei programmi Questo mi permette di avere Se non altro delle barriere più alte Poi però devo anche dire In conclusione Che l'elemento importante È la formazione Cioè noi dobbiamo pensare Di fare della formazione Perché? Perché nessun sistema al mondo Potrà mai evitare i problemi Che sono successi in questi giorni Non sarà possibile Però noi potremo fare dei passi da gigante Nel momento in cui Avremo delle persone formate Che capiscono quando una mail È una mail da aprire o non aprire Quando capiscono che fare gli aggiornamenti E dei sistemi è importante E quindi si tratta soprattutto Di un aspetto culturale Che è poi quello Che vuol fare la Cyber Alliance Ecco Grazie Grazie a Denea Nepentini davvero Per essere stato con noi Buon lavoro Alla prossima Arrivederci Grazie a voi Arrivederci